Salve a tutti ragazzi, io sono Blari della Gang del Tubo e oggi ci ritroviamo su Naruto Ultimate Ninja Storm 4. Allora, nello scorso episodio abbiamo battuto Kaguya, abbiamo finito la parte temporale riguardante lei e adesso ci accingiamo alla fase finale di Naruto. Qui in pratica si parlerà dello scontro tra Naruto e Sasuke, lo scontro che porterà poi a uno dei finali diciamo più attesi, perché comunque è quello. Io mi aspettavo tutt'altro in realtà dal finale di Naruto, mi aspettavo non so sentirvelo, anzi no, non ve lo dirò, ve lo dirò alla fine proprio del gioco. Cosa mi aspettavo io? Beh, penso che il resto lo sappiate, cioè Naruto diventerà Okage, questo lo sapete, però non vi voglio dire quello che mi aspettavo io. Quindi, iniziamo. Il capitolo durerà super giù 41 minuti, sono tantissimi, quindi penso che dividerò quest'episodio, non lo so ancora, poi vedremo. Quindi, bando alle ciance e iniziamo. Disegni? Mamma mia. Grazie a tutti. 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 Sasuke-kun... Dove tutto è benissimo... E dove tutto finirà... Incredibile. Qualcosa di assurdo... Cuento il ragazzo... E ora dobbiamo combattere. Ok... Ok... Fa peccato. Eh ma fa paura da quello però... Mi sa fa male proprio. Ok... Peccato... Le va tantissimo... Le va tantissimo sta mozza lunga... Ok... La evitata... Non so come... Ma l'ha evitata... Ok... L'abbiamo ripreso... Le ha preso le ammette... Ok... 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 Ma l'abbiamo ripreso... Ma l'abbiamo ripreso... Ma l'abbiamo ripreso... Ok... 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 Preso... No! Ma fregato... Cazzo... Eh adesso è tosco... Così mi ucciderà... Ci sono... C'è ma illegal... Kurama... Ok. Sta prendendo il chakra... Questa si in generale non me la ricordavo. Questa si in generale non me la ricordavo. Questa si in generale non mi la ricordavo. Non lo so, ma la ricordavo non mi la ricordavo. Questa si in generale non mi la ricordavo. Oh, ma non è un dato. Ok 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 Ahha Ok これで Ok ORE ... ... ... ... Torita Doした Massacra Mo'o aきらめたわけじゃないだろうな C'è quello che si tratta di tutti i nostri colleghi, ma non è vero? Non è vero. Mi e Obito, ma non è vero. ... Tazato o coban de ita mono mo Itami o kakarete ita mono mo da Ado biju su la bo Sosite se kai no wadakamari su la Omae wa tokaしてきたんだ Nara Ato wa ta ta hitori dake dao Ganko na tomo o tasける koto nao Omae naara zauza mo naai Soodaro Naani, taijou da Omae no se ni wa, omae no se ni wa, ooku no isi shi ga atumatteiru Sia, aini desi, siste kore made ni tsukutta tsuna gaari, nakama tatu no isi shi ga, chikara ga tari nai no nara, mina no te o kareireba ii, sire ga naruto. Omae no tsukurida shita, chikara nanakara na. Omae no koro wa maada shinde wa ola nu. Mizukara jami ni shizu mojo to suru no na. Noi Grazie a tutti! Come andiamo! Il nostro corso! Ahhhh! 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 NARUTO! Ahhhh! Ahhhh! Sì, sì, sì. Sì, non andiamo a andare, Sosuke! Perché? Che volte... Che volte... Che volte... Perché... Che cosa è che tu? Che cosa è che tu? È un'un popore. Quindi potete dire che non devi essere un' giornata! Ahahahahha! Non si è l'attura questo, ma non ci hanno ancora capito. Ho detto! Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ok. Ok. Uff Ok Ok La personità sanga Wow Preso Sì 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 Mi togliamo troppo poco però Bellissima questa scena Ci sono i ricordi del passato un bravio Ok Ok Benissimo Cioè non gli abbiamo tolto nulla Ah penso perché in pratica adesso si è finito I rami che ci possiamo fare In parte Ok 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 Qua siamo dove lo ripresenta Preso Eh adesso il danno l'hai fatto fatta No Non ci togliamo più niente di nuovo Sì ma Vai 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 Ok Di nuovo nel passato stiamo Eh ma lui mi leva un botto però Io non ci posso tagliare niente Ok Ok Ripreso 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 Il ripreso di nuovo Però adesso non ci togliamo più niente Quindi praticamente ci conviene difenderci Ok 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 Ultima barra di vita Ultima barra di vita Ma fatto Preso Sì ma se dobbiamo riuscire per tutto quel tempo È impossibile in pratica Ok 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 Madonna mia Ok Ok Ho troppo ma Ok Ok abbiamo pochissimo checker entrambi bellissimo c'è è spettacolare che non si riescano nemmeno a muovere ah ma ho sempre detto via gli schiappi non ho capito c'è questa cosa non è normale ok l'ho preso no ah si sta facendo colpire ok ok abbiamo avuto le azioni segreti wow avevano questa forza ancora dentro di loro va bene è stata l'ultima goccia di chakra mi sa ah 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 Bellissima sta scena. Bellissima sta scena. Bellissima sta scena. Quando uno scontro finisce tra ninja. Bellissima sta scena. 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 Non mi sembra di farlo, non mi sembrava di farlo. Tu non hai una forte forte che non mi ha fatto. Non mi sembra sempre andato a andare in fronte. Come se, come il mio padre. Ma è così, tu è... Sì Questa è una cosa che stai facendo? Non c'è nulla! Non c'è nulla! C'è un progettino! Ah? Mi... ...ma che da... ... Ma quando io dieci nemmeno, il momento di questo che si non si può, il momento di un'altra guerra. Questo è un'altra cosa. E io, per me, per me, per me. 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 Scusate di me! Mi voglio fare tutto questo, è tutto il suo lavoro! Ovviamente... E anche tu. Se tu non ti capisci, non ti capisci nessuno. Allora... 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 Sì, non lo so, non lo so, non lo so, non lo so. Sì, non è vero. Perché... ... non è vero? Non è vero... ... non è vero. Tu... ... è quello che è? ... è un amore! ... è un amore! ... è un amore! ... è un amore! ... ... ci sono... ... non ho l'ha detto. ... non è vero. ... d'altro è vero. ... con i tu... ... che non è vero. C'è un po' di più... C'è un po' di più... Cosa? Non so... ...lucce... E' qui qui? KAKASHI SENSE! Ah... E' qui? T'es venuto! C'è qui? Non c'è qui? Non c'è qui? ... ... ...